Buongiorno o buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi del capitolo 1060 di One Piece. Spiegare cosa è successo e teorizzare qualcosa su di esso. Io non so nemmeno come descrivere questo capitolo, è stato talmente epico che è davvero indescrivibile, ma forse ho capito come finirà questo capolavoro. Ma ovviamente andiamo con ordine, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Gente, se vi piacciono questi contenuti non esitate ad iscrivervi, vi basta fare un semplice click. Vi ringrazio. Vorrei subito parlare del sogno di Rufy, infatti lui per la prima volta rivela il suo sogno alla Churma, cosa che non aveva mai fatto prima. Infatti coloro che conoscevano tale sogno erano Shanks, Sabo ed Ace. Ma possiamo capire qualcosa al riguardo vedendo le espressioni dei Mugiwara. Alcuni ridono a crepapelle, altri sorridono, alcuni piangono anche. Quindi il sogno del protagonista farà sia ridere e sia piangere, proprio come ciò che Roger e Churma fecero dopo aver visto il tesoro di Joy Boy. Ma in parole povere, a che cavolo di sogno ambisce Rufy cappello di paglia? Io penso di avere una risposta. Se ci pensate, Oda non ci ha rivelato questo fatto, perché credo sia collegato al finale dell'opera, anzi potrebbe essere proprio il tanto atteso finale di One Piece. Ed ora vi dirò cosa ho in mente. Questa ipotesi è così pazza che farà sicuramente ridere, ma è anche un qualcosa di veramente intenso che potrebbe anche commuovere. Io credo che il sogno di Rufy sia quello di scambiare le tazzine di sake con tutto il mondo, così da diventare tutti i fratelli. E così facendo non ci saranno più diseguaglianze e atti di razzismo. L'uguaglianza e la libertà di pensiero sarà all'ordine del giorno, ed è quello che punta Rufy ed è quello che arriverà dopo la realizzazione del suo sogno. Se ci pensate, far ridere no, perché come fa a scambiare le tazzine di sake con tutto il mondo? È una cosa folle che fa ridere, ma il re dei pirati potrebbe farlo, con l'influenza che possiede, potrebbe realmente realizzare questo sogno. Basta ricordare cosa ha scatenato Roger con la sua morte. Il miglior influencer del mondo di One Piece è sicuramente il re dei pirati. Poi, il sake, le tazzine e lo scambio di esse sono all'ordine del giorno per quanto riguarda One Piece. Quindi Oda potrebbe davvero chiudere il manga così, distruggetto ogni discriminazione regalando al popolo del suo manga la libertà, la fratellanza e l'uguaglianza. E dopo quello scambio di tazzine, avverrà la festa più grande che sia mai esistita. Credo che sarà una festa a livello mondiale. E se per caso non vi piacesse un finale del genere, credo che non abbiate letto One Piece come si deve. Quest'opera parla proprio di razzismo, discriminazione, disuguaglianza e libertà di pensiero vietata. E quest'ultima si palesa ancora di più proprio in questo capitolo e proprio con Sabo. Ma prima di parlare di questo punto super importante, che dire? Chiamatemi pazzo se volete. Ma io penso che finirà così One Piece. Cioè, il sogno di Rufy equivale al finale dell'opera. Una controteoria potrebbe essere che Rufy scopre lo scambio di tazzine solo dopo aver urlato il suo sogno. Da bambino. Ma la super festa finale potrebbe anche coincidere con lo scambio delle tazzine. Cioè, le due cose potrebbero accadere comunque. Potrebbe anche essere un gigantesco brindisi mondiale. Ma ora direi di parlare della scena che più mi ha messo i brividi in quest'ultimo periodo. Ma andiamo con calma. Sabo contatta Dragon e rivela che non è stato lui ad uccidere Cobra. Ok, lo sapevamo. Quindi fino a qui tutto bene, no? Ma Sabo rivela ai rivoluzionari che ha visto qualcosa di strano nella sala del trono vuoto. Infatti, sopra quel trono non dovrebbe esserci nessuno. Ed invece, mentre stava per dire quelle fattiche parole, succede un cataclisma. L'isola di Lulusia viene distrutta insieme a tutti i suoi cittadini, con Sabo incluso. Ora fermiamoci un attimo, perché qui c'è molto da parlare. Il regno di Lulusia lo abbiamo visto quando Oda ci ha rivelato i quattro comandanti dell'armata rivoluzionaria. E ci sta che quest'isola sia una delle otto che si sono ribellate al governo. E finalmente abbiamo visto come agisce quest'ultimo quando vuole cancellare dalla storia ciò che stona col suo disegno ideale e che può distruggere la propria salvaguardia, come è successo molto probabilmente con Godovalle in passato. Infatti la telecomunicazione non era criptata. Penso che Sabo l'abbia fatta apposta per far scoprire al mondo intero la verità che si cela a Marigioa, che si cela dietro al trono vuoto. E quella verità è ovviamente Im-sama. E rivediamo proprio il re del mondo, che sembra controllare ciò che ha distrutto quell'isola, perché Oda ci disegna il suo occhio e poi ci mostra la distruzione di Lulusia. Ma che cosa ha usato? Beh, senza troppi fronzoli probabilmente si tratta dell'arma ancestrale Uranus, perché compare nel cielo, crea nubi temporalesche e l'attacco che Furie esce da quell'arma è simile ad una pioggia, ma di fulmini. E guardando la sua silhouette sembra tipo una gigantesca isola o una piravide molto molto grande. Ma sappiamo che le ombre vengono spesso cambiate quando si parla di Oda. Ma a parte ciò, se questa è davvero l'arma ancestrale Uranus, ed è in mano di Im, Dragon che cavolo possiede per essere diventato il ricercato numero uno? E leggendo le parole di Sabo, loro non sanno nemmeno dell'esistenza di Im. Quindi, ricapitolando, Dragon vuole distruggere il potere che possiedono i draghi celesti. E basta. Ma solo per questo che è diventato il criminale numero 1? Poi, che poteri potrebbe avere? Io ho tre opzioni. 1. Rogia del vento, anche se spero non sia così banale. 2. Paramesha del clima, questo potrebbe essere interessante, sia se lo possedesse Dragon e sia se esistesse realmente. Ed infine, 3. Zone mitologico del drago occidentale, che come potere secondario dona al proprio possessore il potere climatico o del vento. Purtroppo speravo che avesse Uranus, ma a quanto pare non è così. Vi ricordo che nel video troll dove sparo i fake spoiler dicevo che Im possedeva Uranus, ma mai immaginavo che potesse realizzarsi tale teoria, per questo l'avevo detta. Ma non corriamo troppo. Possibile anche che sia il potere del frutto di Im sama. Ad ogni modo, abbiamo visto come gli astri di saggezza hanno cancellato dalla storia il regno di Lulusia, come se niente fosse, per conto di Im che aveva disegnato una X su di un disegno di quel sfortunato regno. Ed è così che hanno sempre fatto in ben 800 anni di governo. Naturalmente le domande sono tante, una di queste è, perché non hanno usato quest'arma per distruggere Ohara o addirittura Wano? La risposta forse sta nel non poter usare sempre quell'arma? Probabilmente ha un tempo di ricarica esagerato? O forse Sabo che stava rivelando Im al mondo era un qualcosa di ancora più pesante rispetto agli studiosi di Ohara o di Wano stessa? E un'altra domanda che sorge spontanea è, ma Sabo è morto? Allora, lui è un Roja, no? Quindi potrebbe essere sopravvissuto. Ma se quell'arma usata da Im fosse realmente Uranus, verrebbe sminuita se Sabo fosse riuscito a sopravvivere. Gente, comunque stiamo arrivando alla fine di One Piece e penso che sia arrivata l'ora che anche i personaggi più importanti muoiano. Ma anche se fosse morto, penso che grazie a lui ora i rivoluzionari sanno che c'è qualcuno sul trono vuoto. Anche se non ha completato la frase, non penso siano stupidi. Dragon quindi potrebbe entrare in azione, potrebbe scendere in campo per la battaglia finale contro il governo mondiale. Ma andando avanti, forse il Sensei ci ha dato un indizio sulla prossima isola. Infatti i Mugiwara si imbattono in una tempesta di neve e Nami spiega che forse la prossima destinazione sarà probabilmente un'isola invernale. E per quel che sappiamo, Sphinx non è un'isola invernale, e nemmeno a Cinosu, ma l'isola dove è situato il villaggio di Erba potrebbe essere così grande da avere anche delle parti innevate. Il bello non finisce qui però. Vediamo Bonnie in forma bambina che vola sulla Sunny dopo essere stata salvata da Zoro. E il capitolo finisce qui. Allora, parlando del finale, penso che era alquanto scontato che avremmo rivisto Bonnie. Infatti lei e Euroge sono le ultime due Super 9 avvolte ancora dal mistero. La pirata Mangiona è probabilmente legata al regno di Sorube, che potrebbe avere legami di sangue con Kuma Bartolomeu. Quindi la sua presenza l'ho trovata ben azzeccata. Finalmente scopriremo sia la sua verità e sia tutto ciò che riguarda questa piratessa. Però, come ha fatto a trovarsi in quel luogo, se l'ultima volta che l'abbiamo vista stava a Mari Joa, sarà stato Kuma a farla scappare con i poteri del Pad Pad? O è successo qualcosa di ancora più grosso? Ad ogni modo, Oda ci ha mostrato una spada di Zoro, e la spada non è stata annerita definitivamente. E in un piccolo disegno dove testa d'alga litiga con sopracciglia a ricciolo, vediamo tutte e tre le spade, e infatti non sono state annerite definitivamente dopo lo scontro con King. Io sinceramente speravo che almeno una spada fosse stata annerita, ed invece no. Quindi, o le annerirà poco prima di scontrarsi con Mihawk, cosa molto probabile ora che esiste la Crosswheel, oppure le annerirà proprio contro Mihawk, così da superarlo verso la fine. Come accade di solito negli scontri di questo tipo, sapete no? All'inizio il protagonista le prende, poi arriva un bel power-up e riesce a sconfiggere il nemico, e quel power-up potrebbe essere l'annerimento di tutte e tre le spade. Comunque sia, a quanto pare Vivi non era con Sabo, quindi sarà stata catturata dal governo mondiale, ed ora probabilmente si trova lì, o come schiava o come prigioniera. E ci sta come cosa, sapete perché? Prima o poi Rufy e Churma dovranno andare a Mari Joa, e tutti i nodi verranno al pettine. Parlando invece al volo delle informazioni che Robin stava leggendo sul giornale, l'archeologa rivela che ci sono altre news che riguardano personaggi legati a Rufy. Forse stava parlando di Kobe o Hancock. Quindi per ora Cappello di Paglia non sa che il suo amico Kobe è stato rapito da barba nera, e a rigor di logica dovrà scoprirlo dopo questo arco narrativo, sperando che non sia lungo. Io spero che se fosse Airbuff, 25 capitoli non sarebbe male, più o meno come Zou. Discutiamo anche della mano di Im, da come è disegnata sembrerebbe essere una mano femminile. Ora però è arrivata l'ora di parlare della parte più importante del capitolo, e sto parlando del nuovo Mugiwara, e non mi riferisco a Carrot o a Yamato, bensì parlo di Caribou. Alla fine lui è davvero partito con i Mugiwara e si trova realmente dentro ad un barile, e se notate il barile è stato tipo sigillato, quindi i Mugiwara l'hanno scoperto. E il leccato, piano piano, stava ascoltando le conversazioni di Rufy e company, ed avrà sicuramente sentito anche il sogno del protagonista. Gente, Oda continua a far partire questo personaggio insieme a Mugiwara, e avendo scoperto che vuole spifferare ad una certa persona le ubicazioni di Poseidon e Pluton, rendono questo personaggio gag più importante e interessante di quanto non sembri. Quindi posso dire con certezza che il meme, che fino ha fatto Caribou, rimarrà anche nella prossima saga. Voi ovviamente fatevi sapere cosa ne pensate, non dimenticate di iscrivervi al canale e di seguirmi su Instagram. Passate anche nel canale Telegram di One Piece Unity e noi ci sentiamo, come sempre, in un prossimo video.